Al B-Fest di Bari, che si svolge nella città pugliese dal 22 al 29 aprile, Riccardo Scamarcio è stato invitato per ritirare il premio Vittorio Gasman e ha tenuto un lungo monologo sulla sua pluriennale esperienza in teatro. Il discorso che l'attore ha preparato si è tuttavia trasformato in men che non si dica in una pesante invettiva contro il pubblico, tanto che non sono mancati i fischi degli spettatori quando Scamarcio ha alzato i toni nell'ottica di regalare un vero e proprio show. Voi volete interagire con lo spettacolo? Applaudite! Ma che cazzo applaudite? Capisco che è una vostra esigenza partecipare, ma dovete stare zitti, ha detto l'ex di Valeria Golino, che poi ha rincarato la dose tuonando. Voi siete diventati i protagonisti nello spettacolo. Ma io dico, no, ognuno è il proprio mestiere, se no venite voi qui e fate voi sto cazzo di spettacolo. Poi ha aggiunto, finalmente mi fischiate contro, chi se ne frega, non venite a teatro, anzi, ma che siete venuti a fare qua per sentire che cosa? C'è da dire che l'attore nel citare Carmelo Bene ha voluto sottolineare che lo spettacolo è tale soltanto se il pubblico resta sorpreso invece di essere consolato o gratificato come succede ultimamente. Il monologo di Scamarcio, interrotto soltanto dalle sue risate e dai commenti della platea, ha voluto dunque intenzionalmente provocare e suscitare delle reazioni negli spettatori che alla fine lo hanno applaudito e abbracciato.